Riaprire l'ospedale civile di Agropoli e tener viva l'attenzione sulle vittime degli ospedali chiusi. Questi sono gli obiettivi del neonato comitato ISA, creato in ricordo della donna agropolese che nel giugno dello scorso anno morì dopo essere stata investita sulle strisce pedonali ed in seguito a vari scempi ospedalieri che ormai fanno parte di un quotidiano che va combattuto. Il comitato è stato fondato nella giornata di ieri da un'idea della dottoressa Elvira Serra e Maria Teresa Scarpa in collaborazione con l'Associazione Maria Immacolata che si occupa di informazione sui diritti civili. Il movimento è nato alla presenza di circa 30 persone con lo scopo di spronare l'opinione pubblica sul dolore causato da una perdita di un familiare vittima di mala sanità e per lottare per il rispetto del diritto alla salute che al momento nella città di Agropoli manca vista la situazione in cui si trova l'ospedale civile agropolese.